Musica Signora, lei viene sempre al mercato? Sì Ha paura degli scippi? Come? Ha sentito parlare di quel caso che è morto quel signore dopo essere stato scippato? Sì Ci vogliono più controlli? Eh, appunto I controlli ci vorrebbero, non ho sempre, tutti i mercati E poi qui secondo me non è nemmeno idoneo fare il mercato, che mancano dall'A alla Z I servizi igienici ci sono? Completamente, se andate a corsa d'aria non esistono completamente Ha paura degli scippi? A voglia che ho paura Vuole più controlli? Sì, a voglia Più controlli, sì Si sente sicuro quando viene qua? No, non mi sento sicuro Sempre sta in mano con il cartofoglio Sempre che mi guarda Sempre in a letta? Sì, sempre in a letta Sempre, mi tocco sempre, va, minutamente Lei viene sempre al mercato? Sì, di tanto in tanto ci vengo Per risparmiare oppure per altre cose? Per risparmiare Perché trovo tutto, cioè Naturalmente, per risparmiare Ha sentito parlare di questi scippi che ci sono sempre al mercato? Sì, ultimamente è una persona che conosco, addirittura è morta e quindi si è arrivata all'apice del colmo Lei viene sempre al mercato? Sì, ogni giovedì, facciamolo a spesa Ecco, ha paura degli scippi? Un po', certo Con quello che si è sentito ultimamente Infatti oggi non ha visto la polizia No, c'è la polizia, è all'ingresso No, lì all'incrocio, giovedì scorso c'erano delle macchine di polizia E ora hanno cambiato obbligazione Ah, ok, va bene, grazie Ci vorrebbero più persone, più personale che darebbe una mano a tutte queste persone anziane che hanno più paura di tante altre cose Parecchie non escono neanche, perciò non vedo come mai il comune non si interessa a mettere qualcuno in più Dei vigili che praticamente cercano di vigilare qua il mercato, perché questo mercato è la vita di Lentini Signora, lei viene sempre al mercato? Sì, sempre Ecco, perché viene al mercato lei? Perché rispambiamo Si rispambia? Sì, sì Che vuole sapere che il governo non lo è stato senza saldi, possiamo dire questa, tanto lo è stato registrando Mi dispiace se mi vedo E un'altra cosa, per gli scippi ho paura? No, io non ho paura perché io non mi faccio fregare Se votano la borsa non mi faccio cascare Se la voto E premonito Non voto né documenti né niente, perciò io non voglio buttare Ma se voglio buttare solo la borsa Non ce lo serve Ma se voglio buttare solo la borsa